Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Il Climb. E già era un po' che non lo facevo, da non so quanto. Bene, 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 vediamo che punto è il Monster Truck. Buono, buono, molto buono. Bene, potenziamo il motore. Motore al massimo. Fra poco arriva anche sospensioni e gomma al massimo. Buono, buono, molto bene. Andiamo sulla Luna. Spero che non si senta della musica di sottofondo, però vabbè. In teoria non si dovrebbe sentire. Bene. Madonna, madonna che salto che ho fatto. E' divertente sulla Luna, perché fai i mega, extra, ultra giganti salti. E quindi, porca troia, ho saltato il coso della benzina. Sono morto. Vabbè, rifacciamo, non è un problema. Bene. Dai, iniziamo subito. Se si sente della musica chiedo scusa. Purtroppo non è colpa mia. Madonna, quanti soldi faccio sulla Luna. Pazzesco. Veramente, veramente pazzesco. E questo è il bello della Luna. Che fate tanti soldi, tanti, tanti, tanti. E non c'è un soffitto. Tipo 22.000 in un salto. Penso che 22.000 in un salto sia molto poco. Vero? Molto, ma molto poco. Bene, posso mettere un altro pezzo nel MonsterTrap. E vai con altri 14.000. Aspetta. Sì, 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 sì. Dai che avevo 200.000. Altre 15.000. 16.000. 17.000. Nuovo record. Scusate per il telefono. Niente, ho perso. Sì, ho perso. Non è giusto. Vabbè, mettiamo un altro pezzo. Vai con le sospensioni. Eh, sì. Bella sta partenza. Vi è piaciuta, vero? Paurosa sta partenza. Madonna. Bene. Non l'ha calcolata neanche quella partenza. Troppo difficile partire sulla Luna. Perché ti accappotti subito. Quello è l'effetto se parti troppo sulla Luna. E ora vai con il mega salto. Porca troia. MonsterTrap sa volare. Voi lo sapevate che MonsterTrap sa volare? Vedete che MonsterTrap è perfetto per la Luna. Ma proprio perfetto. A me è tanto benzina meno. Se adesso sentirete bene la musica, chiedo scusa. Chiedo veramente scusa. Purtroppo non posso farci niente. Purtroppo non è colpa mia. Se c'è la musica. Non l'ho messa io. Che palle. Ho perso di nuovo. Per la benzina. Dai restartiamo. Spero di riuscire a mettere anche le gomme al quinto livello. Poi magari termino il video. I believe I can fly. Madonna mia. Ma che cazzo di salti che fa? Dai, 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 dai. Sì, perfetto. Posso mettere le gomme sul MonsterTrap. Niente. Non si può fare un video tranquillo. C'è niente da fare proprio. Che palle. Quando è così, veramente. Ti fa prendere in odio la musica. No, 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 no. Non ci posso credere. Boh, raga, io il video lo posso terminare anche qua. Visto che sono riuscito a mettere le gomme al quattordicesimo livello. Spero che il video vi sia piaciuto. Scusate ancora per la musica. Alla prossima, belli.